Ben ritrovati con una nuova puntata di Oroscopo Sicilia. Scopriamo insieme le previgioni astrali per la giornata di oggi. Ariete. Socializza e incontra nuovi amici. È una giornata positiva per il divertimento e le nuove conoscenze. Partecipa a eventi sociali o organizza una serata con gli amici. Il tuo carisma attirerà persone interessanti. Goditi il momento e lasciati andare. Toro. Giornata dedicata al relax e alla creatività. Trova il tempo per dedicarti a un hobby o per esplorare nuove attività artistiche. Un progetto fai da te potrebbe darti grandi soddisfazioni. Condividi il tuo entusiasmo con la famiglia. La creatività sarà un ottimo modo per ricaricarti. Gemelli. Giornata perfetta per socializzare e fare nuove conoscenze. Partecipa a eventi o incontri sociali. Potresti incontrare persone interessanti. Il tuo spirito comunicativo sarà al massimo. Non esitare a esprimere le tue opinioni. Goditi la compagnia degli altri e rilassati. Cancro. Socializza e divertiti con gli amici. Partecipa a eventi sociali o organizza una serata in compagnia. Il tuo umore sarà alto e contagierà gli altri con la tua positività. Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi interessanti. Approfitta del tempo libero per rilassarti. Leone. Giornata perfetta per il relax e la riflessione. Concediti una pausa dal lavoro e dedica tempo a te stesso. Un'attività artistica o creativa potrebbe aiutarti a rilassarti. Ascolta musica che ti piace o leggi un buon libro. Preparati per un fine settimana sereno. Vergine. La tua creatività sarà in primo piano oggi. Approfitta di questa energia per dedicarti ai tuoi hobby o per iniziare un nuovo progetto artistico. Le relazioni sentimentali saranno pieni di passione e romanticismo. Una cena a lume di candela o una serata fuori con il partner potrebbero rivelarsi molto speciali. Bilancia. Sarà una giornata dedicata al relax e al benessere. Dopo una settimana intensa avrai bisogno di ricaricare le energie. Prenditi del tempo per fare ciò che ti piace. Che sia leggere un libro, fare una passeggiata nella natura o passare del tempo con amici e familiari. Lasciati alle spalle le preoccupazioni e goditi il presente. Scorpione. Concentrati sul rilassamento e sul benessere personale. Dedica del tempo a te stesso per ricaricare le batterie e per rigenerarti fisicamente e mentalmente. Attività come yoga, meditazione o semplicemente fare una passeggiata nella natura possono essere molto benefiche per il tuo equilibrio interiore. Sagittario. Oggi è il momento di dedicare del tempo a te stesso e alle tue passioni. rilassati e goditi le piccole gioie della vita. Rifletti sulle tue esperienze della settimana e considera ciò che hai imparato. Questo è un buon momento per ricaricare le energie e per prepararti mentalmente per ciò che verrà nella prossima settimana. Capricorno. Oggi è un giorno perfetto per concentrarti sul tuo benessere personale in modo completo. Dedica del tempo al relax profondo e alla cura di te stesso fisicamente, emotivamente e spiritualmente. È un momento ideale per dedicarti ad attività che ti portino gioia e tranquillità, come leggere un bel libro, ascoltare musica o dedicarsi a un hobby creativo che ti appassiona. Acquario. Approfitta di questo giorno per bilanciare il lavoro e il relax. Dedica del tempo alle tue passioni personali e alle attività che ti riempiono di gioia. Riconosci l'importanza di prenderti cura di te stesso e ricaricare l'energia in vista della prossima settimana. Magari trascorrendo del tempo al mare con le persone a peccare, che sapranno anche consigliarti e sostenerti nelle nuove sfide. Pesci. Oggi potresti sentire il desiderio di esplorare nuove idee e di socializzare con gli amici. È un momento favorevole per connetterti con le persone che ti ispirano e che condividono i tuoi interessi. Lasciati guidare dalle tue passioni e goditi del tempo libero in modo significativo. Questa giornata è perfetta per rilassarti e per divertirti in compagnia di chi ami, approfittando di ogni momento per rinnovare il tuo spirito. Siamo giunti al termine di questa puntata di Oroscopo Sicilia. Io come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Siamo giunti al termine di questa puntata di Oroscopo Sicilia. Siamo giunti al termine di Oroscopo Sicilia.